Ma è una vita che non vengono. Ma sì, te l'ho fatto. Ciao! Ciao! Che quel pescione! Che quel pescione! Quale cosa è quel che mangia? Magna tipo di muschia. Vedi che mangia là? Ose il cascato del mangiano. Guarda! E questo che mangia? Guarda questo pescione. Non lo so. Il pigliolino, questo pescione. Guarda, si è vero. Ma che bello. Ma sapete, è seria? Ma queste devono essere quelle pescele occiate, perché il gatto è come quell'occhio piccolo sulla schiena. ... Ti fa tristezza che... Anche a me, ma è tutto morbido. ... 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